Per prima cosa quel piccolo uomo stappò il pallone contenente l'alcol etilico. Fece una certa fatica a sollevare il pesante recipiente. Dovette alzarlo quasi fino al livello della testa, perché tale era l'altezza della bottiglia per le miscele su cui era appoggiato l'imbuto di vetro, nel quale, senza l'aiuto di un misurino, versò l'alcol direttamente dal pallone. Baldini rabbrividì di fronte a un tal cumulo di incapacità, non soltanto perché il ragazzo metteva a suo quadro l'ordine cosmico dei profumi, cominciando dal solvente senza avere ancora il concentrato da diluire, ma perché anche dal punto di vista fisico se la cavava stento. Tremava per lo sforzo e Baldini pensava ogni istante che il pesante pallone si sarebbe rotto cadendo e avrebbe distrutto tutto quello che c'era sul tavolo. Le candele, pensò, per amor del cielo le candele, ci sarà un'esplosione, mi farà bruciare la casa. E stava già per precipitarsi a strappare il pallone a quel pazzo, quando Grenoil stesso lo depose, lo appoggiò a terra sano e salvo e lo tappò di nuovo. Nella bottiglia per le miscele ondeggiava il liquido, limpido e trasparente, neanche una goccia era andata persa. Per un paio di minuti Grenoil riprese fiato, con un'espressione così contenta, come se avesse già sbrigato la parte più pesante del lavoro. Ed in effetti in seguito procedette a una velocità tale che Baldini a stento riuscì a seguirlo con gli occhi e meno che mai sarebbe riuscito a individuare un ordine o anche soltanto un qualche sviluppo regolare del procedimento. Grenoil sceglieva apparentemente a caso tra la serie dei flacconi contenenti le essenze aromatiche. Toglieva i tappi di vetro, teneva il contenuto per un attimo sotto il naso, poi versava da uno, faceva cadere una goccia da un altro, rovesciava nell'imbuto uno schizzo da un terzo flaconcino e così via. Pipetta, provetta, misurino, cucchiaino e bastoncino per miscelare, tutti gli strumenti che servono al profumiere per dominare il procedimento complicato della miscelatura. Grenoil non li toccò neppure per una volta, era come se stesse soltanto giocando come un bambino che gira la paletta e rimesta e fa bollire un disgustoso decotto fatto d'acqua, erbe e fango e poi sostiene che si tratta di una zuppa. Sì, come un bambino, pensò Baldini. D'un tratto sembra proprio un bambino, nonostante le mani rozze, il viso pieno di cicatrici e di segni e il naso bitorzoluto tipico dei vecchi. L'ho creduto più adulto di quanto non sia e adesso mi sembra più giovane, sembra che abbia tre o quattro anni, uno di quei piccoli ometti in embrione, chiusi, incomprensibili, cocciuti, i quali, presunti innocenti, pensano solo a se stessi, vogliono dominare dispoticamente tutto il mondo e lo farebbero anche se solo si lasciasse via libera la loro megalomania anziché disciplinarli a poco a poco con le più severe misure educative e portarli all'esistenza autocontrollata dell'individuo adulto. Un simile bambino fanatico si nascondeva in quel piccolo uomo, chino sul tavolo, con occhi brillanti e dimentico di tutto ciò che gli stava intorno e palesemente anche del fatto che nel laboratorio c'era altro oltre a lui e alle bottigliette che avvicinava con rapida goffagine all'imbuto per miscelare il suo folle intruglio, di cui poi con certezza assoluta avrebbe affermato, e credendoci anche, che si trattava del sublime profumo amore psiche. Baldini rabbrividiva, guardando alla luce vacillante della candela quell'essere umano che trafficava, così terribilmente assurdo e così terribilmente consapevole di sé. Individui come lui, pensò, e per un attimo si sentì di nuovo triste e miserabile e furioso, come nel pomeriggio, quando aveva osservato la città rosseggiante nel tramonto. Individui come lui non erano esistiti in passato, questo era un esemplare del tutto nuovo nel genere, che poteva nascere soltanto in quest'epoca decadente, corrotta, ma doveva ricevere una lezione, quel ragazzo prepotente. L'avrebbe sistemato lui alla fine di quella ridicola esibizione, in modo tale che avrebbe dovuto strisciar via come quel mucchietto ingobbito del niente che era quando era venuto. Canaglia! Oggigiorno, comunque, non bisognava più impegolarsi con nessuno, perché il mondo era pieno di ridicole canaglie. Baldini era così preso dalla sua intima indignazione e dal suo disgusto per i tempi che non capì bene che cosa stava succedendo. Quando Grenoide, un tratto, tappò tutti i flacconi, tolse l'imbuto dalla bottiglia della miscela, la prese per il collo, la tappò con il palmo della mano sinistra e la scosse energicamente. Soltanto dopo che la bottiglia fu agitata per aria più volte, il suo prezioso contenuto, come limonata, passò dal ventre al collo e viceversa, Baldini emise un grido di rabbia e di orrore. «Halt!» strillò. «Adesso basta! Smettila immediatamente! Basta! Metti subito la bottiglia sul tavolo e non toccare più niente! Capisci? Più niente!» «Devo essere stato pazzo già solo ad ascoltare il tuo discorso insensato, il modo con cui tratti le cose, la tua rozzezza, la tua primitiva mancanza di buonsenso mi dimostrano che sei un guastamestieri, un barbaro guastamestieri e per di più un molcioso, miserabile e sfacciato. Tu non sei neppure capace di miscelare limonate, non sei neppure capace di vendere un semplicissimo succo di liquirizia, non parliamo poi di fare il profumiere! «Sì, lieto! Sì, grato e contento! Se il tuo padrone continua a lasciarti pasticciare con il liquido da concia, non osare mai più! Mi senti? Non osare mai più mettere piede sulla soglia di un profumiere!» Così parlò Baldini. E mentre ancora stava parlando, la stanza attorno a lui era già piena dell'aroma di amore psiche. «Il profumo ha una forza di persuasione più convincente delle parole, dell'apparenza, del sentimento e della volontà. Non si può rifiutare la forza di persuasione del profumo. Essa penetra in noi come l'aria che respiriamo, penetra nei nostri polmoni, ci riempie, ci domina totalmente. Non c'è modo di opporvi, sì!» Grenoie aveva deposto la bottiglia, aveva tolto dal collo la mano bagnata di profumo e se l'era asciugata sul fondo della giacca. Uno, due passi indietro, e il goffo ripiegarsi del suo corpo sotto la predica di Baldini, bastarono a rimuovere l'aria, di modo che il nuovo profumo si diffuse tutto attorno. Non occorreva altro. In verità Baldini continuava a imperversare, a strillare e a inveire, ma a ogni respiro l'ira che esternava trovava sempre meno giustificazione dentro di lui. Sentiva di essere battuto, per questo il suo discorso alla fine poteva risolversi soltanto in una vuota enfasi e quando tacque, quando ebbe tacciuto per un momento, non ebbe più nemmeno bisogno di ascoltare l'osservazione di Grenoel. È pronto. Lo sapeva comunque. E tuttavia, sebbene nel frattempo l'aria greve di amore e psiche gli fluttuasse attorno da ogni parte, si avvicinò al vecchio tavolo di quercia per eseguire una prova. Prese dalla tasca della giacca, dalla sinistra, un fazzoletto pulito di pizzo, bianco come la neve, lo spiegò e vi spruzzò sopra un paio di gocce prese con la pipetta lunga dalla bottiglia della miscela. Agittò il fazzoletto con il braccio teso per fargli prendere aria e quindi lo portò sotto il naso con il consueto movimento aggraziato, ispirando l'aroma a fondo. Mentre lo espirava a tratti, sedette su uno scabello. «Prima era diventato rosso scuro in viso per il suo scoppio d'ira, ora di botto era diventato tutto pallido». «Incredibile!» mormorò sommesso tra se e se. «Per Dio!» «Incredibile!» e premette il naso più e più volte contro il fazzoletto e annusava e scuoteva il capo e mormorava. «Incredibile!» Era amore e psiche senza il minimo dubbio. Amore e psiche, la geniale e odiosa miscela di profumo copiata con tale precisione che neppure Pelissia in persona avrebbe potuto distinguerla dal proprio prodotto. «Incredibile!» Piccolo e pallido, il grande Baldini sedeva sullo sgabello e aveva un aspetto ridicolo col suo fazzoletto in mano che premeva contro il naso come una vergine raffreddata. Ora la lingua gli si era bloccata del tutto. Non diceva neppure più «Incredibile!» ma si limitava a emettere un monotono «Eh! Eh! 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 Eh!» Scuotendo piano piano la testa di continuo e fissando il contenuto della bottiglia con la miscela. Dopo un poco Grenoie si avvicinò e si accostò al tavolo senza far rumore come un'ombra. «Non è un buon profumo» disse «E' composto molto male questo profumo!» «Eh! Eh! 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 Eh!» disse Baldini e Grenoie proseguì «Se permette, maître, voglio migliorarlo mi dio un minuto e ne farò un profumo come si deve!» «Eh! Eh! 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 Eh!» disse Baldini e annui non perché fosse d'accordo ma perché il suo stato d'animo era così inerme e appatico che avrebbe detto «Eh! Eh! Eh! Eh!» e avrebbe annuito a tutto e a tutti e continuò ad annuire e a mormorare «Eh! Eh! 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 Eh!» e non accennò minimamente a intervenire anche quando Grenoie cominciò a miscelare per la seconda volta verso una seconda volta l'alcol etilico dal pallone della bottiglia aggiungendolo al profumo che già vi era contenuto e per la seconda volta versò nell'imbuto il contenuto dei flacconi in una successione quantità apparentemente casuali soltanto verso la fine della procedura questa volta Grenoie non scosse la bottiglia ma la dondolò soltanto lievemente come un bicchiere di cognac forse per riguardo alla sensibilità di Baldini forse perché il contenuto stavolta gli sembrava più prezioso soltanto allora dunque quando il liquido già pronto ondeggiava nella bottiglia Baldini si ridestò dal suo stato di stordimento e si alzò pur con il fazzoletto sempre premuto sul naso come se volesse armarsi contro un nuovo attacco al suo io è pronto maître disse Grenoie adesso è un profumo proprio buono già 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 bene bene replicò Baldini e gli fece cenno con la mano libera di andarsene non vuole fare una prova gorgogliò ancora gorgogliò ancora Grenoie non vuole maître nemmeno una prova più tardi più tardi ora non ho voglia di fare una prova o altro per la testa va ora va su 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 e prese uno dei candelieri e uscì dalla porta attraversando un negozio Grenoie lo seguì imboccarono il corridoio stretto che portava all'ingresso di servizio il vecchio camminò strascicando i piedi fino alla porta tirò indietro il chiavistello e aprì si spostò di lato per far uscire il ragazzo ora posso lavorare da lei maître posso chiese Grenoie già sulla soglia di nuovo curvo di nuovo con gli occhi di vigile attesa non lo so disse Baldini ci rifletterò va ed ecco che Grenoie era sparito in un attimo inghiottito dall'oscurità Baldini restò a guardare con gli occhi fissi nella notte con la mano destra teneva il candeliere con la sinistra il fanzoletto come uno che perda sangue dal naso e tuttavia aveva soltanto paura rimise in fretta il chiavistello alla porta poi tolse quel fazzoletto protettivo dal volto lo ripose in tasca riattraversò il negozio e tornò nel laboratorio l'aroma era così divinamente buono che Baldini di colpo si sentì salire le lacrime agli occhi non aveva bisogno di fare prove si limitò a stare in piedi presso il tavolo da lavoro davanti alla bottiglia della miscela e a ispirare il profumo era meraviglioso in confronto ad amore psiche era come una sinfonia paragonata allo strimpellare solitario di un violino ed era anche di più Baldini chiuse gli occhi e sentì che i ricordi più sublimi si ridestavano dentro di lui si vide da giovane passeggiare la sera nei giardini di Napoli si vide tra le braccia di una donna con riccioli neri e vide i contorni di un mazzo di rose sul davanzale della finestra che oscillava la brezza notturna udì uccelli cantare qua e là e da lontano la musica di un'osteria del porto udì un bisbigliare fitto fitto nell'orecchio udì un ti amo e sentì che dalla gioia gli rizzavano i peli ora 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 in questo istante aprì gli occhi e dette un gemito di piacere questo profumo non era un profumo come quelli conosciuti finora non era un aroma che migliorava l'odore personale un sambon un articolo da toilette era una cosa di specie totalmente nuova che poteva creare da sé tutto un mondo un mondo magico ricco ed un tratto si dimenticavano le nauseanti miserie di qua giù e ci si sentiva così ricchi così pieni di benessere così liberi così buoni i peli dritti sul braccio di baltini si distesero e una seducente pace dell'animo si impossessò di lui prese la pelle il capretto che si trovava al margine del tavolo prese un coltello e la tagliò poi mise i pezzi nella bacinella di vetro e li bagnò con il nuovo profumo ricoprì la bacinella con una lasta di vetro e versò il resto del profumo in due bottigliette che provide di etichette su cui scrisse il nome nuit napoliten poi spense la luce e salì di sopra alla moglie durante la cena non disse nulla soprattutto non disse nulla della sacrosanta decisione che aveva preso nel pomeriggio anche la moglie non disse nulla poiché si accorse che lui era sereno e quindi era molto contenta baldini non si recò neppure più a Notre Dame a ringraziare Dio per la sua forza di carattere sì quel giorno dimenticò persino per la prima volta di recitare le preghiere della sera il mattino seguente si recò di filato da Grimald per prima cosa pagò il capretto e persino a prezzo pieno senza brontolare e senza minimamente tirare sul prezzo poi invitò Grimald alla bere una bottiglia di vino bianco alla tube d'argent e ottenne da lui contrattando l'apprendista Greneuil ovviamente non rivelò i motivi per cui lo voleva per i quali gli serviva inventò qualcosa circa un grosso ordine di pelli profumate per far fronte al quale gli serviva un avventizio non qualificato gli occorreva un ragazzo di poche pretese che facesse per lui lavori più semplici tagliasse le pelli e così via ordinò un'altra bottiglia di vino e offrì 20 lire a compenso del fastidio che causava Grimald con la perdita di Greneuil 20 lire era una somma enorme Grimald si dichiarò subito d'accordo si diressero alla conceria dove Greneuil stranamente era già pronto col suo fagotto Baldini pagò le 20 lire e prese subito il ragazzo con sé conscio di avere concluso il miglior affare della sua vita Grimald che a sua volta era convinto di avere concluso il miglior affare della sua vita tornò alla Tour d'Argent beve altre due bottiglie di vino verso mezzogiorno si trasferì a Lyon d'Or sull'altra riva e là si ubriacò in modo così sfrenato che quando a tarda sera volle trasferirsi di nuovo alla Tour d'Argent confuse Rue Gouffois dalla Nier con Rue de Neunedier e quindi anziché sbucare direttamente sul Pont-Marie come aveva sperato si ritrovò misteriosamente sul sul che dorme da dove piombò lungo e disteso e a faccia avanti nell'acqua come in un soffice letto morì all'istante fu il fiume che impiegò ancora un certo tempo per trascinarlo via dalla riva poco profonda e portarlo passando accanto alle chiatte ormeggiate nella corrente di mezzo più forte e soltanto nelle prime ore del mattino il conciatore Grimal o piuttosto il suo cadavere intriso d'acqua si diresse galleggiando a valle verso ovest quando passò sotto il Pont-Houchange senza far rumore senza urtare contro i piloni venti metri di sopra di lui Jean-Baptiste Grenoy stava andando a letto un tavolaccio era stato sistemato per lui nell'angolo di fondo del laboratorio di Baldini e ora ne prese possesso mentre il suo padrone d'un tempo stava galleggiando lungo disteso giù per la fredda senna si appallottolò piacevolmente e si fece piccolo come una zecca con il primo sonno si immerse sempre più e sempre più a fondo in se stesso e fece un ingresso trionfale nella sua cittadella interna sull'alto della quale sognò una festa vittoriosa di odori un'orgia gigantesca con vapori di incenso ed esalazioni di mirra in onore di se stesso con l'acquisizione di Grenoy ebbe inizio l'ascesa della casa Giuseppe Baldini a una considerazione nazionale anzi europea nel negozio sul Pont-Houchange oggi il carillon persiano non aveva più pace e gli aereoni d'argento non smettevano mai di sprezzare acqua di viole già la prima sera Grenoy dovette preparare un grosso pallone di nuit napoletaine di cui nel corso del giorno seguente furono venduti più di 80 flacconi la fama del profumo si diffuse con frenetica rapidità a Chenier vennero gli occhi viterei dal gran contardenari e la schiena dolorante dai profondi inchini che era costretto a fare perché in negozio comparivano importanti e importantissime personalità o perlomeno i servitori di importanti e importantissime personalità e una volta addirittura la porta si spalancò all'improvviso sicché produsse un forte tintinio ed entrò il lacchè del conte d'Argenson e urlò come sanno urlare soltanto il lacchè che voleva cinque bottiglie del nuovo profumo e in seguito Chenier continuò a tremare per un quarto d'ora dal timore reverenziale perché il conte d'Argenson era intendente e ministro della guerra di sua maestà ed era l'uomo più potente di Parigi mentre Chenier in negozio subiva da solo l'assalto dei clienti Baldini si era chiuso in laboratorio con il suo nuovo apprendista di fronte a Chenier giustificò questa circostanza con una fantastica teoria che definì divisione del lavoro e razionalizzazione per anni spiegò aveva tollerato con pazienza che Pellissier e altri figuri suoi pari sprezzanti della corporazione gli avessero alienato la clientela e rovinato gli affari ma ora la sua longanimità era agli sgoccioli ora avrebbe accettato la sfida e restituito i colpi a questi insolenti parvenus e proprio con i mezzi usati da loro stessi a ogni season ogni mese e se necessario ad ogni settimana avrebbe detto la sua con profumi nuovi e che profumi avrebbe lavorato con tutta la sua vena creativa e per questo era necessario che lui aiutato soltanto dal suo assistente non qualificato si occupasse solo ed esclusivamente della produzione dei profumi mentre Chenier doveva dedicarsi esclusivamente alla vendita con questo metodo moderno avrebbero aperto un capitolo nuovo nella storia dei profumi avrebbero spazzato via la concorrenza e sarebbero diventati incommensurabilmente ricchi si usava consapevolmente ed espressamente il plurale perché meditava di dividere queste incommensurabili ricchezze in una certa percentuale con il suo fidato garzone ancora pochi giorni prima Chenier avrebbe interpretato discorsi simili da parte del suo principale come insegnare un incipiente follia senile adesso è maturo per lasciare te avrebbe pensato adesso non ci vorrà più molto perché deponga il pestello definitivamente ma ora non lo pensava più non aveva più il tempo di pensarlo aveva semplicemente troppo da fare aveva talmente da fare che la sera dallo sfinimento riusciva a malapena a vuotare la cassa traboccante e a prendersi da sua parte non aveva il minimo dubbio che tutto fosse regolare quando Baldini usciva quasi ogni giorno dal laboratorio con un nuovo aroma e che aromi erano non soltanto profumi di grande grandissima scuola ma anche creme e ciprie saponi lozioni per cappelli lavande oli tutto ciò che doveva avere un profumo ora ne aveva uno nuovo e diverso e più splendido di prima e su tutto ma proprio su tutto persino sui nuovi nastri profumati per capelli creati un giorno dal ghiribizzo fantastico di Baldini il pubblico si gettava come stregato e i prezzi non avevano alcuna importanza tutto quello che Baldini produceva diventava un successo e il successo era così sconvolgente che Cheney lo accettava come un evento naturale e non indagava oltre sulle sue origini che il nuovo apprendista quello gnomo maldestro che si era installato nel laboratorio come un cane e che talvolta quando il principale usciva si poteva vedere sullo sfondo mentre lavava recipienti di vetro e puliva mortai che quella nullità d'uomo potesse in qualche modo avere qualche cosa a che fare con la favolosa prosperità degli affari Cheney non l'avrebbe creduto neppure se gliel'avessero detto in modo esplicito naturalmente l'ognomo aveva tutto a che fare con quella tutto ciò che Baldini portava in negozio e consegnava a Cheney da vendere era solo una minima parte di quello che Greneux miscelava dietro le porte chiuse Baldini non riusciva più a seguire il proprio olfatto talvolta era un vero e proprio tormento operare una scelta tra le meraviglie che Greneux creava questo apprendista stregone avrebbe potuto rifornire di ricette tutti i profumieri di Francia senza ripetersi senza produrre una sola volta qualcosa di inferiore o di medio o meglio avrebbe potuto rifornirli ma non di ricette cioè di formule perché Greneux per il momento componeva i suoi profumi ancora nel modo caotico e totalmente privo di professionalità che Baldini ben conosceva vale a dire mescolando a mano libera gli ingredienti in un caos apparentemente selvaggio per poter almeno capire quel lavoro folle se non per controllarlo Baldini un giorno pretese che Greneux si servisse della bilancia del misurino e della pipetta per preparare le sue miscele anche se non lo riteneva necessario e che inoltre si abituasse a usare l'alcol etilico non come sostanza aromatica bensì come solvente da aggiungersi da aggiungersi soltanto in un secondo tempo e che per l'amor di Dio facesse il piacere di lavorare lentamente con calma lentamente come si conveniva un artigiano Greneux lo fece e per la prima volta Baldini fu in grado di seguire di documentare i singoli maneggi dello stregone con carta e penna sedette accanto a Greneux e annotò sempre invitandola alla lentezza quanti grammi di questo quante misure di quello quante gocce di un terzo ingrediente emigravano nella bottiglia della miscela in questo modo singolare cioè analizzando a posteriori un procedimento proprio con quei mezzi senza la cui utilizzazione precedente in realtà esso non avrebbe potuto avere luogo Baldini alla fine riuscì a entrare in possesso della sintetica prescrizione come Greneux senza quest'ultima fosse in grado di preparare i suoi profumi continuava a restare un enigma per Baldini o piuttosto un miracolo ma perlomeno ora aveva ridotto il miracolo in una formula e con ciò aveva in qualche modo soddisfatto il suo spirito assetato di regole e aveva salvato la sua immagine del mondo dei profumi dal collasso totale a poco a poco riuscì a strappare a Greneux la preparazione delle ricette di tutti i profumi che questi aveva inventato fino allora e infine gli vietò persino di prepararne di nuovi senza che lui Baldini fosse presente con penne e carta a osservare il processo con occhi d'argo e a documentarlo passo per passo i suoi appunti ben presto e molte dozzine di formule li trascrisse poi a fatica in bella calligrafia su due diversi libricini uno lo chiusa a chiave nella sua cassaforte a prova di fuoco l'altro lo portò sempre con sé anche di notte quando andava a dormire questo gli diede sicurezza infatti adesso se voleva era in grado di compiere da sé i miracoli di Greneux quei miracoli che l'avevano scosso profondamente quando ne aveva fatto l'esperienza la prima volta con la sua raccolta di formule scritte credeva di poter scongiurare il tremendo caos creativo che sgorgava dall'intimo del suo apprendista anche il fatto di prendere parte ai riti creativi non fu più soltanto uno sciocco stupore Berzi osservando e registrando ebbe un effetto tranquillizzante su Baldini e rafforzò la sua fiducia in se stesso dopo un certo tempo ebbe persino la sensazione di contribuire in modo fondamentale alla riuscita dei sublimi aromi e subito dopo averli registrati nel suo libretto e quando li custodiva in cassaforte o ben stretti sul proprio petto non dubitava più che fossero in tutto e per tutto suoi ma anche Grenoy fu avvantaggiato dal procedimento disciplinare impostoli da Baldini in verità avrebbe anche potuto farne a meno non occorreva mai che consultasse una vecchia formula per ricostruire un profumo dopo settimane o mesi perché non dimenticava gli odori ma con l'uso obbligatorio del misurino e della bilancia imparò il linguaggio dell'arte profumiera e sentì per istinto che la conoscenza di quel linguaggio avrebbe potuto essergli utile in poche settimane Grenoy non soltanto imparò i nomi di tutte le sostanze odorose del laboratorio di Baldini ma fu anche in grado di scrivere da sé la formula dei suoi profumi e viceversa di trasformare formule e indicazioni non sue in profumi e in altri prodotti profumati e più ancora dopo aver imparato a esprimere in grammi e gocce le sue idee e il fatto di profumi non gli servì neppure più la fase sperimentale intermedia quando Baldini lo incaricava di inventare un nuovo aroma sia per creare un profumo da fazzoletto sia per un sachet sia per un belletto Grenoy non poneva più mano a flaconi e a polverine ma si limitava a sedersi al tavolo e a scrivere la formula direttamente aveva imparato ad ampliare il percorso dalla sua rappresentazione olfattiva interna al profumo finito aggirando la fabbricazione della formula per lui era soltanto un tragitto più lungo ma agli occhi del mondo cioè agli occhi di Baldini era un progresso i miracoli di Grenoy restavano gli stessi ma le ricette che ora li corredavano facevano sì che il procedimento non incutesse più paura e questo era un vantaggio quanto più Grenoy dominava le mosse e i procedimenti del mestiere quanto più sapeva esprimersi normalmente nel linguaggio convenzionale dell'arte profumiera tantomeno il padrone lo temeva e sospettava di lui ben presto Baldini lo considerò senz'altro un individuo dotato di un olfatto non comune ma non più un novello frangipane o addirittura un inquietante stregone e a Grenoy andava bene così la regola del mestiere era per lui un piacevole camuffamento tranquillizzava persino Baldini con il suo procedimento esemplare che consisteva nel pesare gli ingredienti nell'agitare la bottiglia della miscela e nel tamponare i fazzoletti bianchi per le prove era già quasi in grado di agitare questi ultimi con gesti aggraziati di farli passare sotto il naso elegantemente come il padrone e talvolta a intervalli ben meditati commetteva errori fatti in modo che Baldini fosse costretto a notarli dimenticava di filtrare orientava la bilancia in modo sbagliato annotava in una formula una percentuale assurdamente alta di tintura di ambra e si lasciava rinfacciare l'errore per poi a bella posta correggerlo in tal modo riusciva a cullare Baldini nell'illusione che alla fin fine tutto andasse come doveva non voleva certo spaventare il vecchio anzi voleva davvero imparare da lui non la miscela dei profumi non la giusta composizione di un aroma naturalmente no in questo campo nessuno al mondo avrebbe potuto insegnargli qualcosa e anche gli ingredienti presenti nel negozio di Baldini non sarebbero mai bastate a realizzare le sue idee di un profumo veramente importante quello che poteva realizzare da Baldini in fatto di odori erano passatempi paragonati agli odori che portava dentro di sé e che pensava di creare un giorno ma per questo lo sapeva gli occorrevano due presupposti indispensabili uno era la copertura di un'esistenza borghese o perlomeno della categoria dei garzoni al cui riparo egli avrebbe potuto indulgere alle proprie passioni e perseguire indisturbati i suoi scopi l'altro era la conoscenza di quei procedimenti artigianali con cui si potevano produrre isolare concentrare e conservare le sostanze aromatiche e soltanto allora disporne per un uso più nobile infatti Grenoie possedeva sì il naso migliore del mondo sia dal punto di vista analitico sia da un punto di vista profetico ma non possedeva ancora la capacità di impadronirsi degli odori in concreto grazie a tutti grazie a tutti